eccoci qua signori big luca da dubai dalla sua non stabile maggiore di residenza perché mi trovo in un'altra location super segreta per ciò che dovevano essere sei giorni di vacanza e riflessione spirituale ma che ovviamente si trasformano in sei giorni di meeting strategici casini cazzi e mazzi da risolvere eccoci qua connettetevi numerosi oggi vi spiego ragazzi la ricetta per diventare ricchi così almeno la smettete di chiedermela e sapete come muovervi e il resto come sempre prevederà signore dio onnipotente ciao ciao christian come state a posto ciao walter condividete oggi big luca massima autorità dei trilionari dubaini vi spiega alcune cose che non volete sentirvi dire adesso ve le dico così io vi pulisco la coscienza in realtà vi ripeto cose che vi ho detto a tratti in altri live voi ascoltate e poi così potete fare quegli assurdi commenti che vi contraddistinguono ciao ciao ragazzi come state appena mangiato un bistecone sono uscito a piedi qua c'è un posto posto normale ma si mangia delle bistecche cazzo buonissime ciao ciao si tutto a posto da posso tutto a posto tranne che dovevo fare staycation essere in silenzio stampa per sette giorni ma siccome tanto un po di tempo da perdere ce l'abbiamo cenare abbiamo cenato si lucra ok vabbè 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 allora adesso mi state un po a sentire oggi parliamo di cazzate falsi miti e direzioni invece vere sostanziali di lungo periodo ok quindi oggi parliamo del aspettate che eccoci qua oggi seduto su questa poltrona se 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 peraltro abbastanza è del modello hotel ma deluso ma oggi non è un live parlo degli hotel allora ragazzi come scusate non vorrei mai partisse eccoci qua allora vediamo eccoci qua sì allora molti di voi mi chiedono quante attività dovete fare quindi quante aziende dovete avere e questa cosa continua a essermi chiesta da due anni e mezzo nonostante vi continui a dire da due anni e mezzo che cosa fare ma voi non mi ascoltate e anche ieri ho dovuto fare una consulenza della quale mi ero dimenticato delle ragioni per le quali non sono veramente in vacanza perché mi ero dimenticato una consulenza ma questi sono è stata eseguita e tutto a posto non ho rubato ancora questa volta i soldi a nessuno mi sto ingegnando ma per adesso non ci siamo ancora riusciti sono battute ragazzi dai su e quindi questa persona qui è un libero professionista che lavora nel campo della medicina naturale e ha una linea di prodotti svolge delle consulenze eccetera eccetera e ogni cinque minuti lui voleva o un contatto di una persona che non si capiva cosa dovesse fare cioè ma se te cosa ne pensi se faccio anche questo ma dovrei fare un corso ma dovrei fare un business ma dovrei fare di qua e se vengo a dubai e se vado in belize e gli continuava a dire tu devi portare avanti ciò che controlli cioè la tua attività per adesso se un libero professionista lui si è rivolto a noi perché vuole vuole strutturare meglio la sua attività identificato in noi persone che un'azienda che lo può aiutare quindi vuole fare diciamo il salto da libero professionista imprenditore adesso sta facendo tutto lui ed è in questo campo qui che è un po il campo delle informazioni se vogliamo quindi benissimo allora ragazzi molti di voi continuano a fare delle robe che sono sbagliate dovete capire una cosa fare soldi a qualunque livello è il risultato della creazione in ultima analisi di un'azienda oppure di una realtà da liberi professionisti comunque dovete dare un prodotto e un servizio a un mercato e dovete avere un sistema organizzato che lo promuove qualunque cosa si discosti da questa realtà è in realtà un'anomalia del mercato va bene farò un video più serio rispetto a queste cose perché ormai è giunto aggiunto all'ora però vedo molti di voi che tentano di creare 15 aziende diverse con 15 metodi di guadagno oltretutto facendo una confusione catastrofica tra metodi di guadagno dove voi in realtà non state neanche ben capendo quello che state facendo perché fate le campagne o fate i prodotti mandate gli acquisti comprate le come non avete un'idea di che cosa stia veramente succedendo non c'è un'organizzazione non avete contezza del fatto che state servendo un mercato oppure addirittura che questo mercato che ci dovrebbe essere non c'è ma lasciamo perdere voi dovete focalizzare la vostra attenzione su una cosa è due anni e mezzo che vi dico di avere il monofocus all'inizio questo inizio durerà per molti anni non potete fare cinque sei sette cose in contemporanea perché la realtà ve la dico subito qual è è che se avete una veramente un'azienda non una cosa che voi chiamate azienda ma veramente un sistema organizzato eccetera ragazzi è faticoso il vostro focus non può essere diviso me ne accorgo io io non ho il focus per fare altre cose ho provato anche non ci stanno tutte perché quando avete la realtà che funziona sulla quale vi focalizzate con dei collaboratori con dei team con dei progetti un mercato da servire continuare a servirlo al meglio il mercato cambia arriva al covi dei prezzi price point tutte queste cose qua il vostro focus è continuamente nel guidare questa entità quindi voglio ribadire a tutti i liberi professionisti a soprattutto quelli che vogliono fare il salto verso una delega verso una macchina che possa essere delegata e che possa produrre risultati sia che voi lavorate dentro la macchina o no ma voi comunque siete il leader la dovete dirigere adesso ne parliamo focalizzarvi su quello prendete un qualcosa che sapete fare che sta già funzionando ampliatelo miglioratelo con tutti i consigli gratis a pagamento le consulenze non siamo qua a vendere niente in questo specifico live va bene ma non pensate che dovete fare 3 4 5 aziende per per dire alle persone che voi avete 3 4 5 20 aziende io investo in borsa io sono azionista di ad oggi 200 aziende 300 aziende quindi io vi posso dire che ho 300 aziende a che pro dare questi messaggi sbagliati è assurdo la verità è che quando avete un'entità che state creando che è in crescita e soprattutto la stabilità molti cercano la stabilità adesso vi dico io una roba che nessun altro vi dice questa è una roba vera che nessun altro dice non c'è nessun cazzo di stabilità non c'è quella roba lì se esiste spiegatemi dov'è ogni giorno ci sono casini nuovi che può risolvere il vostro team ma comunque sono parte della vostra vita casini nuovi sfide nuove prodotti che non vanno prodotti nuovi servizi nuovi lamentele e l'altro che si lamenta e la sentenza il giudice e attaccare uno che ha attaccato quell'altro l'esposizione mediatica e l'infrastruttura la piattaforma che c'ha le magagne perché adesso hai aggiunto una roba che non era prevista e quindi eccetera ora nel caso del libero professionista molte volte non arriva neanche a questo livello ma fa tutto lui ed è il motivo per il quale dico se siete liberi professionisti che è un po' una delle lezioni che ho dato in infomarketing per babbuini occhio a non avere aspettative o a impostare un sistema che in realtà è declinabile solo in un'azienda cioè in un processo delegato organizzato che lavori per voi per per voi non potete pensare che voi non lavorate perché voi siete i leader di questa azienda e dovete sempre pensarci dovete dare la direzione quando succedono certe magagne certi problemi o anche certe cose belle in ultima analisi la visione la dovete passare voi dovete formare continuamente i vostri leader dovete ristabilire le regole le direttive quando certe cose cambiano a volte ci sono degli scossoni positivi e negativi la verità che quando uno impegnato a fa sta roba qua non può creare 3 4 5 65 mila aziende va bene ora come questa cosa qua si sposa con un tema che dovete avere che quello delle fonti multiple allora numero uno le fonti multiple da cose diverse ragazzi arrivano negli anni non ce l'avrete dopo un anno due anni tre anni cinque anni sono idiozie se ce le avete con le vostre sette fonti multiple non voglio farlo sbordio non me ne frega niente guadagnate un decimo di quello che guadagno io con una sola entrata della big look international dal mese e voi lo sapete che è vero al che paga molto di più termini di soldoni mettere il focus in un'azienda che sta servendo il mercato e avere una diversificazione all'interno di questa azienda qua varie linee di prodotto chi di voi è monoprodotto e la chiama azienda ragazzi voi vi potete continuare a prendere in giro ma non lo è e va benissimo siete un libero professionista e state nel piccolo vendete un prodotto due prodotti mettiamo un consulente io tanti consulenti agenti immobiliari avvocati commercialisti per consulenti intendo loro coach eccetera ok avete un prodotto fate delle sessioni di consulenza e va bene potete guadagnare anche molto facendo quello mal che non mi usate sistemi strategie e cose incredibili che potrebbe invece usare un'azienda che vende informazioni e mettete il focus nella vostra practice nelle vostre consulenze le vostre cose alzate quello non è che dite adesso che guadagno 10k facendo l'avvocato voglio fare l'amazon fba voglio fare l'affiliate marketing voglio fare il corso voglio fare di qua portate e trovate dei modi per guadagnare 30.000 euro al mese con quello che stiamo facendo il focus è quello e vi impegnerà talmente tanto anche quando l'avete delegato che io ad oggi all'interno della big look international vi interesserà sapere che non faccio io dico non faccio niente purtroppo io adesso mi sono reso conto che con lo stato dell'industria che abbiamo non posso più permettermi certe leggerezze verbali che altro non sono però adesso dobbiamo andare nella cosa vuol dire non faccio niente perché appena detto che ti impegno adesso detto che non hai fatto niente no perché non volete capirlo non faccio niente di tecnico ok non solda password per a web non sono capace clic fan nell'altro giorno ha dato un link io non capisco neanche più io do la visione do le strategie faccio le conseguo gli studenti quelli più avanzati faccio le consulenze di atto ma quella di ieri una persona che comunque sta portando a casa 20 30 mila di meno difficile che la persona prenoti una consulenza con me ok ci sono tutta una serie di progetti che io ho ideato insieme ai miei leaders ai manager che si occupano dei vari settori che non vuol dire che c'è 50 60 mila persone che lavorano per me non è assolutamente così che collaborano con la big luca vanno anche altre cose ok siamo in una ventina adesso dipende poi come però non conta anche lì dobbiamo smittizzare questa cosa che non è un'azienda se non hai 200 mila impiegati o se non sei quotato oppure se non hai un turnover di 240 mila miliardi non fai gates di cognome ma il focus per portare la big luca a un altro livello per osservare il mercato ci sono competenze anche di marketing che non possono essere interamente delegate al mio team ok vi rendete conto di questa cosa qua ci sono delle sensibilità particolari che devo avere io come imprenditore quindi io non ho 400 ho provato ad avere delle aziende a latere anche con delle persone che erano non ho fatto perché poi comunque il mio apporto ci deve essere ho detto anche ad alcune persone guarda non ce la fa io devo pensare ad altro ok quindi molti di voi non hanno le rendite i soldi eccetera per il semplice motivo che state provando a fare 50 cose e fate il trading poi fate anche un po di network marketing poi fate un po di affiliate marketing poi fate un corso e io prendo i vostri quattro stream vi metto un mio medio studente magari privato che c'ha una roba e vi caga in te cioè non voglio essere aggressivo però vi voglio un po' scuotere con il live di oggi perché mi pervengono delle domande che sono assurde visto che sei big perché non fai sette aziende ma non sono vere quelle robe lì ok dopo di che dopo dieci anni vent'anni trent'anni potrete arrivare magari ad avere due tre quattro cinque trenta aziende chi ha trenta aziende perché in realtà non le hai semplicemente un azionista ragazzi io posso dire al pari loro di essere azionista di duecento aziende perché investo nella borsa compro indice azionari io sono un azionista di facebook per esempio posso dire sono azionista di una società multimiliardaria quotata sono azionista di alfabet sono azionista di tesla sono azionista di amazon no solo l'indice nasdaq che 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 compro ogni mese per una buona cifra oltretutto no mi fa essere azionista di cento aziende se poi prendiamo anche gli altri indici non so neanche quanti ce ne siano è rilevante se poi fa curriculum domani posso dire sono azionista di duecento aziende tra cento magari sono anche mille non le ho con se sono sincero non so bene cosa con te non li ho scelti io questi tf che non voglio essere arroga mi sono stati segnalati da chi di dovere va bene ragazzi perciò avete una realtà che sta cominciando a funzionare molti di voi peraltro questo è un messaggio io lo ripeto da mi rendo ormai di parlare al 20 ragazzi chi ci segue ci segue gli altri si disperdano non non mi rendo conto di non avere veramente il carisma di arrivare a tutti cioè andrete da non lo so però piantatela di ragionare con il cosa dovete imparare il come ok sempre di più ci rivolgiamo a liberi professionisti o piccoli imprenditori che hanno già un qualcosa da crescere da migliorare in realtà è molto difficile che le persone vengano da noi con zero il motivo è di assoluta evidenza e non mi pare che ci sia un mistero questo non vendiamo opportunità di business ragazzi non vendiamo il cosa e non lo vendiamo per un motivo l'unica eccezione giusto è essenzialmente vendita telefonica d'assalto che viene venduto come un'opportunità di business che è ma è attivo bisogna farsi il culo devi chiamare non è passivo rendite è una cosa fatta attivamente quindi già non per niente poi chi lo compra di solito ha un'azienda o comunque si comincia ad espandere ha bisogno di venditori eccetera il come è fondamentale il come funziona il denaro il come funziona il focus il focus quello vero e non le supercazzole il come funziona questa macchina che attrae i clienti fa i prezzi dovete pesare bene quali sono i vostri obiettivi alcuni di voi per esempio hanno degli obiettivi monetari che sono assolutamente incredibili per il come volete raggiungerli quando io parlo con qualcuno che mi dice ma non mi dispiacerebbe fare 30 mila euro netti al mese io mi vieno a tirare due sberle come 30 mila euro netti al mese tantissimi e se 30 mila euro li vuoi fare da libero professionista o da azienda perché l'azienda non è che fa 30 mila euro netti magari stai facendo un milione all'anno e hai il 30 per cento di netto che è tantissimo in certi casi devi essere conscio di questa differenza oltretutto non guadagnerete al mese un libero professionista ti può parlare di mese un imprenditore ti parla di anno a me chiedono ancora quanto guadagno al mese benché io tutti i mesi per mantenere una mia abitudine mentale cerchi di inviarmi dei dividendi questa cosa non succede ogni mese ovviamente poi dopodiché faccio la media dall'anno sul mese per chi ha queste curiosità sulla mia economia che non vedo neanche cosa ve ne freghi va bene quindi il come la strategia ragazzi il capire poi soldi l'unico modo che avete è creare un'azienda o essere liberi professionisti quindi qual è la differenza l'azienda è un sistema organizzato che vende prodotti e servizi a un pubblico di riferimento quando siete liberi professionisti vendete voi questi prodotti e servizi al mercato di riferimento è la stessa cosa uno è più grande dell'altra non vuole dire per esempio che il libero professionista guadagni di meno molte volte non è vero moltissime volte non è vero perché il libero professionista se arriva al massimo della sua capacity si trova innanzitutto se vende qualcosa che il mercato compra questa sarebbe già un'idea ok capisce come alzare la propria parcella usando un po di strategie riesce a fare magari 20 30 40 mila euro netti al mese avere un'azienda che fa un utile ok aziendale di 400 mila euro all'anno che poi viene passato e poi vi dovreste prendere voi dividendo in realtà dovreste fare 4 milioni o 40 milioni per avere l'equivalente del libero professionista che ha un netto personale di mezzo milione all'anno ok quando vi dico molte persone che hanno imprese un dividendo non se lo sono mai staccati alcuni ha torto alcuna ragione vi dovete fidare delle mie parole semplicemente la realtà dei fatti il fatto di essere esentati aiuta non ci nascondiamo dietro i ditini però non so che dire bene ora molti vengono attratti all'inizio da a chi io ho iniziato così non è che dai metodi di guadagno e non solo dai metodi di guadagno ce ne sono di seri e di non seri di spiegati bene e di spiegati male condividete questo video ragazzi che secondo me aiuta un po di gente di percorsi seri di percorsi non seri di opportunità serie meno serie poco se quindi non le sto mettendo tutte sullo stesso piano me ne frega niente non sono in questo campo quindi non devo deposizionare non mi interessa ok se non quando veri e propri trucchetti truffettine il foreign trading binary e il bass e che non esiste il black in due anni e mezzo che dico dei ragazzi black non è black ma mi devo calmare bene ok a certo punto voi potete anche guadagnare ma siccome voi non avete contezze in realtà di che cazzo state facendo li perdete quei soldi la vi dureranno poco ok se voi aprite il broker della borsa ok io la prima volta che l'ho aperto ho detto che cazzo è sta roba e non capivo niente e ancora non ci capisco niente però mi hanno detto tu clicca qui è muto e ho eseguito perché non è che va bene voi provate a dire a uno che in borsa ma sai oggi ho aperto il broker mi sono messo a smanacciare ho fatto degli ordini cazzo ho fatto dei soldi ok l'esperto di borsa sapete cosa io non lo sono ce sto dicendo se io lo fossi cosa vi direi il mercato tra poco ti sconta tutti quei gli imbecilli che stavano stanno ancora comprando le azioni a un euro provando a rivendere già speculare un sacco di non so se avete visto che proprio tutti i ragazzini americani si sono messi a farlo perché c'era l'opportunità vedevano le azioni a un euro di hertz tutte queste robe qui mercato ha dato giù un pelo li ha buttati fuori tutti perché non è sostenibile infatti io dico sempre state facendo i soldi con un metodo di guadagno che è facile e immediato e voi non avete un reale scambio di valore è un è una landing page è un libretto è un prodotto è uno store non è business quella roba lì lo comunico non che non si possa guadagnare o che non vanno bene o che big luca sta parlando ma non è quello il messaggio ma non creerete ricchezza in questo modo qua farete i soldi ne farete un po per un po e poi vi va via non capite non funziona più ve lo chiudono ve lo bannano non è non è un vero scambio di valore con il mercato che è l'unico modo per fare dei soldi e quella roba lì quello scambio quello con l'organizzazione o personale o aziendale vi tira via focus vi tira via la salute a volte ok cioè c'è non quando siete e ripeto non dovete per forza condurre un'azienda miliardaria basta una che fa due tre quattro milioni all'anno per vedere l'inferno se questa realtà è profittevole si girano comunque i soldi se si serve un mercato c'è competizione una rottura di balle se volete andare forte se voi volete mettervi via o crescere un'azienda da 300 mila all'anno a 10 milioni in tre anni ragazzi vedete i sorci verdi perché ci sono dei casini delle cose nuove che non conoscevate e voi volete fare tra 4 5 6 aziende non si può fare non si può fare io faccio due tre metodi di guadagno si può fare ragazzi io ve lo dico prima cinque anni fa o sei o quelli che sono io iniziavo con un metodo di guadagno che non sto neanche ripetere qual è e guadagnavo grande christian sei la realtà assoluta no ma la realtà perché tu capisci perché tu capisci certe cose cioè le vivi queste robe qui stiamo crescendo tanto ma abbiamo le e allora e guadagnavo e uno vede i soldi sono a posto no guadagno mensilmente guadagno 12.000 e 50.000 non lo facevo con i libretti 12.000 quello che è poi uno si sa fare l'affiliate market però ti senti che non c'è un'organizzazione non c'è una logica non c'è adesso vi dico quanti sono vivi dopo cinque anni del business che sono ancora più ricchi facendo solo quello con cui sono iniziati senza evolversi ad altro e senza studiare il marketing c'è zero quelli che facevano o il dropshipping o l'affiliate market o la cosina così che ha visto che sto guadagnando guardate eccetera e non hanno poi espanso la loro cosa dire ok ci dobbiamo organizzare si deve creare una capitalizzazione c'è un'organizzazione c'è un mercato di riferimento e identificare se quello che stai facendo è un'anomalia del mercato è un loophole è un buco è una cosa che ha cinque sei variabili che tu non controlli e che adesso sono tutte insieme e se ci puoi guadagnare ma domani non sarà così cose che si tengono sul filo del raso senza nessun riferimento particolare vivetela in modo generale chi è andata bene a fare uno short in borsa e non sa cos'è lo short io non ho ancora capito come si faccia non ha controllo della sua nave chi gli arrivano dei segnali dalla bulgaria sul forex e per adesso sta guadagnando io spero che voi abbiate la lungimiranza di capire che tra tre anni voi non avrete una barca di soldi sarete così in piscina ok poi possiamo scherzare nelle cose cioè mi sembra assurdo ok dovete assolutamente capire questa roba qua quindi i soldi si generano con un'azienda si generano con uno scambio di valore di un mercato che vuole questo valore che questo valore possa non piacere ad alcuni io per esempio qualcuno ha fatto soldi perché io mi metto le calze fucsia uno potrebbe dire ma come cazzo si veste il big con i soldi che ha ma chi se ne frega questi qua mi hanno venduto delle calze fucsia e mi piacciono ok ma c'è un'organizzazione ok dovete capire come funziona il denaro come funziona la strategia condividete questo video che è importante per favore facciamole e diciamole queste cose qua vedrete i sorci e più vi volete voi volete guadagnare delle cifre ragazzi è un bagno di merda è un bagno di sangue non ve li regalano non ve li regalano i soldi ok non non so come spiegare non so se sia neanche utile questo live qua perché poi magari vi creo più domani ma fa niente però ve lo volevo comunicare quindi il guadagnare il lucrare che sono tutti concetti giusti io vi dico lucrate però ok cioè è il risultato di un cavolo di scambio con il mercato organizzato organizzato da voi presso di voi quindi libero professionista o azienda anche piccola non bisogna per farci essere Bill Gates si può fare un eccellente profitto con un'aziendina piccolina ma bisogna organizzarsi e poi non c'è la stabilità cambia ogni due secondi è per quello che poi dovete avere un team perché almeno siete più veloci siete reattivi e dovete avere delle persone che pensano io sono fierissimo del team io dico che la Big Look International ha uno dei team più forti in generale ho delle persone che hanno due coglioni così persone che risolvono i problemi proattivi hanno vabbè non vi posso dire su cosa ma loro hanno avuto delle idee per tamponare alcune cose che succedono io non ci avevo neanche pensato hanno pensato loro però dovete avere dei leader che pensino per voi bisogna trovarli bisogna formarli bisogna pagarli bisogna remunerarli bisogna eccitarli e sapete che dovete eccitare il vostro team ed è per questo che mando spesso alla chat del mio team la foto del mio piede fucsia perché comunque lo sto scherzando ok quindi e e questa roba qua che forse è un po' la parte più dolorosa non la dovete dire la dovete fare perché ad oggi c'è un problemino su questa cosa non la dovete dichiarare o billantare o dire o convincervi di lo dovete fare è come il risparmio tutti che no no ma certo la disproporzione la cosa il cuscine sì ma lo state facendo un pochino lo dovete proprio fare visione di lungo termine piani di corto termine però per raggiungere la visione e tutti i vari discorsi ci sono domande? e questo è l'unico modo che io conosca per fare del grano focalizzatevi fate una cosa non siete degli spiegati se non avete 4, 5, 6 fonti di guadagno io sicuramente ho più fonti di guadagno all'interno della Big Luke International la più grossa fonte di Roa ma tu guadagni vendendo così? eh sì è proprio l'unica realtà che poi in realtà c'è la mia holding finanziaria quella immobilia ma sono cose che non ci interessano posso dirvi che in realtà vabbè va bene? se è estremamente serio vorrei ti vedere essere con i tuoi detrattori ma hai gente che non ha né arte né parte dai ho ancora impressa in mente la prima foto del profilo di Luca Cicchinelli sembrava timidissimo mentre ora è un drago hai visto subito il potenziale oppure con la giusta riprogrammazione tutti possono fare un simile cambiamento grazie sei il top pedialice Luca Cicchinelli che è il CEO della nostra azienda il sales coach è un ragazzo estremamente talentoso ho visto subito un'estrema organizzazione e un talento potenziale io mi ricordo anch'io la prima cena lui era fuori post perché lui lui era il mio assistente all'inizio adesso ve lo ricordate e com'è tutto a fare no? mi ha contattato lui non so neanche che faccia adesso perché aveva l'avatar grigio infatti ho detto questo è un fake sicuro però mi ha detto ciao ti ho fatto il sito e ho cliccato perché io cercavo uno che facesse il sito quindi è stato propositivo gli ho dato qualche task poi vedevo che li facevo gli ho detto saltiamo su Skype parliamoci un attimo e aveva fame di imparare ha anche le persone fammi vedere una storia di successo bene Luca Cecchini ha una storia di successo era povero in canna adesso vive a Dubai non per finta in un hotel di lusso ha un'ottima liquidità si fa un culo così per la Big Luca International non poco e grande Arnau come andiamo? e dà delle soddisfazioni e dà delle responsabilità oneri ed onori e non è facile ok? e fa parte e dirige una realtà un continuo movimento una realtà frizzante è una roba figa però è quello che poi di genera i soldi cioè non sono i soldi non è il guadagnare quella grandissima il clandestino siciliano ci sono domande su questo? un sedicente esperto di marvi io sono un imprenditore non sono un marketer ma nel concreto cosa fai? abbiamo dei corsi delle consulenze dei percorsi che aiutano i liberi professionisti piccoli imprenditori a capire cos'è l'online marketing ad alzare i prezzi a fare più soldi con quello che hanno o a fare una cosa più profettevole quindi se hai un business e vuoi incrementare i tuoi introiti specialmente online noi ti spieghiamo ci spiegheresti se è noto perché dan kennedy non vede di buon occhio tony robbins tony robbins ha un ego smisurato ed è una persona che è l'antitesi di dan kennedy dan kennedy è una persona molto privata non gli va di farsi vedere e poi robbins mi dicono un ego smisurato digma il post dell'altro giorno cosa voleva dire esattamente voleva dire questo he who hastens to be rich will not go unpunished e molti di voi vogliono arrivare ad avere un risultato barando e quella roba questi sono altri insegnamenti ci sono tutta una serie di cazzate nelle quali voi credete sono ancora moltissime persone che pensano che si faccia soldi fottendo la gente facendo i trucchetti tagliando cut corners non è semplicemente così cioè non voglio fare il prete della situazione che fa l'uomo etico però in realtà è così cioè certe cagate non funzionano semplicemente questo questo era l'insegnamento un proverbio non è un proverbio mio ovviamente domande quindi questa è un po' la spiegazione per chi guarda i video per chi interessa andate su biglucainternational.com chiamate il numero verde se volete capire come i nostri percorsi vi possono aiutare non c'è non c'è il tasto cioè dovete creare un cavolo e dovete capire di che cacchio si parla molti di voi sono confusi cioè in realtà non è vero che voi sapete che dovete vendere delle cose pensate che finisca lì non c'è un'organizzazione c'è una gestione del denaro io sento delle cose sulla gestione del denaro che fa pietà fanno veramente pietà e non sono vere oltretutto poi nei fatti non sono vere e a me dà fastidio che vengano dette cose che non sono vere poi fattivamente uno comincia a dire ma io cosa sto facendo questo poi altri incontri persone che stanno bene persone che guadagnano persone che hanno una situazione economica stabile non fanno niente delle cose che sento in giro ma applichi strategie innovative nel senso ciò che fai è una base teorica non capisco né cosa voglia dire innovativa né teorica sono strategie che funzionano attivamente recensite alcune sono ovvie ma non vengono fatte alcune altre sicuramente ti possono apparire nuove dipende cosa intendi per innovative sono cose che funzionano sei stanco Luca la gente che non comprende è abbastanza domande quindi per chi di voi vuol lucrare tutte queste cose qua e vi ho appena dato la soluzione non è di avere 507 aziende fare 41 cose diverse e non è così cioè focus una cosa fate crescere quella portate in profitto quella B cosa pensi di chi vende corsi ostentando il lifestyle dipende da che corsi sono e che lifestyle è e che ostentazione è dipende chiaro che se io domani vado su un jet privato e ti dico compra il mio corso in due secondi diventi ricco però quelle sono cose assurde dipende anche cosa intendi per ostentare il lifestyle perché cioè c'è chi fa vedere che ha una bella vita magari che però per lui è normale ma non vende tramite questo questo stile di vita qua cioè che non ti dà il mio messaggio non è se compri il corso domani cazzo io facevi l'hai dalla piscina dicendo la piscina lo specchietto per le allodole non che tutti l'abbiano capito se ti dicessi seriamente non facendo il cazzone compra i nostri percorsi e domani anche tu puoi venire in vacanza così certo sarebbe sbagliato ma sarebbe sbagliato ma il problema è che un live del genere aiuta chi ci crede se invece uno cioè io a volte faccio vedere il mio lifestyle cioè io ho un tenore di vita appagante poi io ciao Giacomo a volte siamo noi che vediamo solo ostentazione poi gli occhi ti cambiano se non si hanno risultati su un percorso che si è intrapreso dopo quanto tempo consigli di rivalutare la propria situazione allora dipende cioè se tu stai facendo una dieta dimagrante dopo tre mesi non hai perso un grammo di solito un percorso mettiamo che che tu abbia un business che tu abbia una tua professione che insomma ti gira qualche soldino ma vuoi un attimo riorganizzare capire i prezzi meno clienti che rompono e acquisti dei nostri percorsi ok chiaro che se dopo parte il fatto che non li puoi vedere in due giorni perché sono decine di ore se ti metti lì ad applicare dici big dice di fare questo e tu lo fai effettivamente a parte che sarebbe una pacchia perché ti posso vabbè e dopo non so datti un sei mesi tre mesi tre sei mesi non hai il becco di un risultato sei autorizzato a cambiare a lamentarti e a richiederci il rimborso e a e a andare da un'altra parte per dire non lo so ti direi il criterio della ragionevolezza però non esiste sei veramente il top sei un punto di riferimento per me grazie creare un blog su economia e finanze vendendo le consulenze pensi possa funzionare grazie a big lucas è un grande allargherei la cosa capirei venderei a chi e perché e in che modo non c'è il blog che vende il corso cioè quando il momento giusto per iniziare a diversificare investire tempo e denaro su altri asset io lo faccio per esempio Matteo non è che io non lo faccio ma lo faccio in un modo che è intelligente per una persona che ha il focus su un'azienda poi non è ragazzi tutti hanno il focus su una sola azienda semplicemente magari cioè se io ti do centomila euro e tu mi rendi socio della tua io ti dico che ho due aziende ma il messaggio sbagliato è che tu puoi avere il focus multi aziendale semplicemente non è quella roba lì o ce lo puoi avere quando ormai come gli sharks americani quando tu sei così ricco che tu sei già a posto in qualunque modo possibile ma parliamo di avere un miliardo ragazzi ok il tuo lavoro e poi c'è anche chi ce l'ha lo dovete anche avere nel sangue molti di voi non riescono a voglio dire a mettersi via una liquidità perché l'azienda o perché voi stessi che è la stessa cosa sopravviviate tre mesi volete gestire fare i seoi odi di dieci aziende è assurdo tutto giusto quello che dici bisogna partire da un'infrastruttura seria ma se qualcuno parte con zero no non ho detto infrastruttura seria a livello mentale cioè devi capire che la traiettoria è quella tu puoi anche stare tu è un assistente oppure solo tu semplicemente devi capire cosa comporta questo questa è una delle cose che abbiamo spiegato recentemente in infomarketing per babbuini questo che è stato comprato molto meno di quello che sarebbe dovuto comprare è stato benissimo però libero professionista imprenditore molti di voi pensano di fare l'azienda che vende informazioni e invece siete liberi professionisti ma avete in realtà un funnel per un'azienda e il brand e mi parlate del focus cioè è prima schiarirsi di che cazzo stiamo parlando perché il fatto che adesso internet ha reso accessibile certi strumenti non vuol dire che ci si clicchi sopra e pronti partenza via cioè il broker della borsa voi lo potete installare potete fare ma non è che cliccate in modo compulsivo prima dovete capire che cos'è un'azione che cos'è un bond capite prima si capisce quello il cosa la strategia io intendo quello nel marketing c'è un suo cosa il broker è lì io mi metto ma dimmi dove cliccare ma no quando rifarai la realtà non esiste live no 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 eventi no ragazzi no no non li facciamo per vendere il cliente investimento è minimo esatto farai il caso studio del corso Babuini no intendi report lancio non facciamo più vedere i numeri perché è diventato assolutamente inutile non riesco a gestire tre ragazzi assieme figuriamoci mettere il focus su sette aziende eh ma tre ragazzi insieme alla volta se si hanno 20-30 video educativi conviene caricarli tutti insieme con la cadenza una pagina facebook nuova cadenza cadenza condividete ragazzi questo video facciamo uscire un po' di informazioni va bene quindi datevi il permesso di avere solo una cosa rendete bella quella realtà lì fate quello focus mono focus mono focus all'interno di quella cosa lì non abbiate un solo prodotto lì potete diversificare un minimo poi prendete dei soldi per esempio investiteli in monetizzazione ma quando ne avete tanti questa è anche un'altra cosa l'investimento non prima dovete metterevi in sicurezza con ben altre situazioni io investo mensilmente non è un segreto adesso io investo mensilmente poi ormai dire i numeri mi sembra anche fuori luogo perché ogni volta si creano secondo me delle situazioni prendo gli occhiali ho voluto fare il figo senza gli occhiali torniamo a essere secchione investo al mese in borsa ok però dovete fargli step dall'epoca della piscina che vi dico di non copiarmi che voi non avete capito che prima dovevo fare altre robe c'è da dire che non hai mai fatto leva sull'ostentazione per opportunità no anche perché non vendiamo metodi di guadagno quindi mi piace ti dico anche che non mi dispiacerebbe cioè non cioè se vendessi io certi corsi su certi argomenti te lo spiego i soldi che farei però per espandere quello che già faccio sfiori 10k vorrei ampliarmi con prestazioni sanitarie privato ora sera non so come passare dal al magnete per l'eats alla vendita ma magari non hai il problema del magnete per l'eats ti mancano delle competenze di marketing o una chiarezza di obiettivi lo so immobiliare in Italia non lo faccio cosa ne pensi della nicchia finanza personale per principi c'era un enorme buco due anni che lo dico che c'era un enorme buco e magari è un buco che tra poco riempiremo noi perché vista la situazione oh due anni e mezzo d'anticipo ho dato eh no che nessuno recrime per favore certo certamente che c'è buco eh eh sì per seconda io come sono arrivato dei vramsi perché certe cose ma in America anche sono delle informazioni che non sono vere io vi posso assicurare che non sono vere che non funzionano no sta roba del debito per essere sta piva del debito non è vero non sono vere tutti questi debiti la roba la leva la cosa 30 a 1 eccetera e poi si dice ma in soldoni cioè cosa stiamo facendo eh no perché lo scale up la roba non è attinente soprattutto alla magari uno vuole per esempio avere una semplicemente per ego dire che ha non so 50 appartamenti ma in realtà guadagna come averne 5 dopo che ha finito di fare tutti i casini e voi magari invece volete una rendita e quindi sarebbe molto meglio averne 5 esempio stupido però ci capiamo ma come è a leva guadagna con 50 appartamenti ma assolutamente no che non è così ragazzi vivete in contesti che non esistono ma lo dice la matematica no evidentemente no anche Cardoni lo diceva la matematica ragazzi cioè se avete visto i video di quando ha colpito il covid che ha dovuto fermare i dividendi per gli investitori lo diceva la matematica no perché appena c'è il minimo problemino il sentore coltanto l'immobiliano si è mosso tutto bene no dai per favore siamo seri credo che il tren che hai lanciato senza farlo a posto ovviamente che ci sono molti più guru non competenti ma fanno leva sull'insicurezza e li ho creati io insomma vieni in mezzo fai guru alcune delle mie creazioni le detesto alcuni altri lavorano bene alcuni nascono poi ci sono un sacco di consulenti paraconsulenti gente anche anche in gamba per carità di dio non è che facciamo il mio è un messaggio non me ne frega niente del posizionamento per spiegarvi perché siccome mi chiedono ma come se io vorrei fare dei soldi bene a qualunque livello devi creare un'azienda sto per lanciare un videocorso sulle relazioni lo posso dividere in fascia lasciarlo unito cosa consigli tu immagino tu non abbia comprato infomarketing per babuini anche qui lancia un videocorso sulle relazioni tu chi sei sei cioè qual è il tuo progetto non c'è un videocorso ragazzi questa roba qua non esiste non c'è lancia un videocorso io l'ho detto ufficialmente prima di vendervi un corso su come creare i corsi non esiste questa cosa vedete un videocorso cosa c'entra un videocorso cioè qual è il progetto qual è il mercato è un'azienda sei tu tu hai intenzione di avere un'esposizione mediatica in questa nicchia fare dei contenuti educativi di questa cosa di lungo periodo o vuoi il fanellino automatico che vende corso vuoi monetizzare velocemente per fare altro perché non funziona oppure ti vuoi ampliare cioè tutte cose interessanti finalmente ho trovato qualcosa a vendere online che è un mercato è molto istruttivo utile peccato sia illegale che palle ho mi faccio capitale me ne sto cauto ma JB io spero tu stia scherzando non si fa le robe illegali hai mai visto quella shpappi in giro per Dubai ti farò ridere Mad no però ero a cena da amici e c'era un amico di amici che mi diceva che mi spiegava innanzitutto lui è esperto di moda io no potete ben immaginare mi spiegava della moda anche di come investire in capi da moda fa no perché le borse si apprezzano non si apprezzano il 30% all'abo io non capivo e va benissimo c'è una condonna e e mi fa no perché c'è questo a shpappi a Dubai a shpappi io non lo conosco ma si su instagram è famosissimo gli faccio io instagram non è che lo conosca bene vabbè scrivo a shpappi 2 milioni di followers e questo qua spendeva mezzo milione al mese da Fendi mi dice sempre che è un real estate che lavora nell'immobiliare ma sicuramente vende armi o qualcosa del genere e poi l'hanno arrestato 3 giorni dopo non l'esperto di moda a shpappi è venuto all'FBI a prenderlo è stato stupido si è messo a ostentare ricchezza sinistra oltretutto ecco quella è ostentazione ecco lì si può parlare di ostentazione ma capisci no la differenza poi magari con me che mi faccio la foto di Louis Vuitton cioè arrivate anche voi e quella non è neanche ostentazione cioè lì è è oltre e lì devi avere veramente tutto in regola perché ti si nota hai una Rolls Royce diversa per ogni giorno della settimana ai 4000 Lubouten anche da donne lui si vestiva a volte anche tipo da donne perché a quel livello che cazzo gli dice hai capito ed era un un truffatore sono venuti a prenderselo quelli dell'API o per chi dice no perché a Dubai perché non lanci un corso tecnico di business queste cose tecniche noi imprenditori non capiamo un cazzo Luigi la parte tecnica è spiegata nei nostri percorsi però ti dico ben subito che risolverai veramente poco cioè il mistero non è lì 400 milioni esatto bravo un miliardo e mezzo di dirham avevano rubato poi con il Cov non l'ho ben capito ma deve essere una roba abbastanza valorda ciao Big la nicchia a uscire dal debito la Repo ti longeva come capacità di portare i propri servizi nel tempo in Italia meno dell'America però sì adesso quello la fa veramente eh sì non so dove stia andando in prigione però insomma cybercrime ragazzi cybercrime è preso molto seriamente non si fanno certe cose perché prima ha scritto dovrei fare robe illegali guarda che ti peccano cioè non è fate delle robe cioè fate le persone serie ok signori quindi questo è un po' il messaggio ieri ho fatto questa consulenza poi ci arrivano domande vedo un po' le cose volevo un attimo chiarirla questa roba qui dove vivi a Dubai non è proprio illegale come dimenticare l'abbonamento per l'autobus questa casa è il problema di questa cosa è che se è borderline e tu per sbaglio guadagni tu hai il cervello rovinato io conosco persone che sono lesionate per fare degli esempi ma soprattutto in questo periodo non mi sembra carino tu inizi a fare delle troiattine così guadagni e sei lesionato a vita perché pensi che guadagni uguale a trucchetto sei andato è andata non ti riprendi più e quando finisce perché finisce l'evasione non funziona meglio organizzare strategia imprenditoriale sì no ma lui non so se parlasse di evasione ok quindi questo è così è se vi pare ma questo è l'altro tutto e due entrambi rotti no vedete perché poi mi chiedete lo stile ne ho due questo è quello più nuovo vedete che ha tre video è quello più nuovo si è rotto il microfono quindi sto usando quello vecchio già uno che vince lotteria impazzisce figuriamoci il resto esatto possibile che qualcuno non sia portato per diventare ricco anche se lavora sodo può non essere il tuo obiettivo nella pagina facebook sponsorizza solo due o tre video tutti per azione tutti quanti ah quello dei 30 video dipende cosa stai facendo io ne sponsorizzerei due o tre per volta quindi meno male che io ho sempre guadagnato in modo graduale poco ma graduale ma allora se tu fai un salto quantico perché le tue conoscenze hanno fatto un salto quantico è diverso se hai uno spike tanto li perdi li perdi perché non capi perché dov'è la stupidità non capendo che cos'è il marketing che cosa sono i soldi come funziona questo scambio come funziona il risparmio l'investimento di lungo periodo eccetera ti entrano dei soldi ma tu pensi che ti entreranno sempre perché non sai cosa li ha causati e quindi è così è tutto arrabbattato funziona funziona assolutamente credo che il problema numero uno soprattutto nei giovani la pazienza Instagram non aiuta sempre a tutti i ricchi sì non aiuta i social media non aiutano i social media hanno creato gli opportuni sì cargetta che vuole fare le robe subito i tastini le robe automatiche big progetti futuri per arrivare al billion fra quanto lo molli l'infobusiness a me il business delle informazioni piace non ho intenzione per adesso di mollare la big look international per il billion con questo trend mi ci voglio almeno 30 anni si fa decidere l'obiettivo monetario se l'appetito vi è mangiando te ne devi impostare uno all'inizio e poi lo espandi ma per espandere lo devi espandere anche il mercato i servizi che dai il valore che aggiungi o capire come fartelo pagare di più lo stesso ma in realtà non rimarrà lo stesso anche perché tanto non c'è un'altra cosa anche con l'obiettivo poi monetario se è solo monetario cioè non c'è il non c'è il limite io ho studenti amici che guadagnano cifre cambiando mood luca mi fa piacere sia chiaro molto meglio questa nuova versione di te spero non promuoverai più ventenni come prima cosa investe nel lambo per fare ricchi e vendere corsi germano il ventenne che investe in lambo gli è stato detto di aspettare a prendersi la lambo prima di arrivare a un a un certo benchmark e non mi ha ascoltato però dai a vent'anni si è preso la lambo soddisfazione gliela poi i propri soldi li spende come come vuole io non consiglio ho fatto il video su questo non comprate la macchina fino a che non potete cioè mai più del 5% del proprio patrimonio liquido poi una persona che esce dalla scuola dovrebbe avere già il piano fare azienda ok tentare prima dei 30 provare la strada giusta già il piano dove esci dalla scuola di solito non sai che cazzo stai facendo io pensavo l'università fosse la mia strada io ero andato completamente in paranoia sul fatto dell'università cioè io conosco ancora adesso tutti i requirement tutte le 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 i requisiti per le università pensavo che quella fosse la mia strada cioè pensavo che io dovesse come ti sei ridotto pigiama che pigiama che questa è alta moda ma va ma poi le ciabatte non ce le ho con la cazzo fucsia non ce le ho le ciabatte mai messe sono in tipo in staycation dovevo stare al parte che vabbè più di un'ora in piscina non non ce stai allora scusate ok tentare prima di la tua strada la trovi una cosa è che se tu senti di non essere destinato per una strada comune potrebbe essercene una che non conosce vale la pena studiare per capire io mi sono sempre se non ci stavo dentro ragazzi e poi in realtà tra le mie tendenze cerebrali e quello che faccio e alcune cose perimetrali c'è una una commissione però stiamo andando in discorsi che non gradirei non fare è molto borderline il problema è anche che dovrei faticare cinque volte più rispetto a qualcosa di non borderline lascio stare mi trovo no non fare il borderline se non ero lo dicesti che non era un colpo di genio spendere 150k per una macchina ogni caso ripeto molto meglio questo tipo di contenuti di approcci valore molto più alto molto contento che ti piaccia mi fa piacere una tua live proprio il giorno del mio compleanno sono ancora circondata dalla gente che non capisce anche solo i concetti base di finanza personale oppure gli giro i tuoi live dicono che gli aprono un mondo e che li aiuta tantissimo ma poi continuano a spendere qualche anno e rimangono poveri ma quando dico poveri intendo proprio indebitati solo qui mi sento inadeguata mi sento adeguata solo un saluto grande Cri buon compleanno eh sì ci sono anche esempi sbagliati e l'esempio sbagliato davvero non è e qui mi rifaccio alla domanda di poco tempo fa sul no chi mi ha chiesto sull'ostentazione non è cioè cioè io ti posso so come spiegarvi questo concetto qui perché poi è difficile esprimerlo in parole io io cioè vedete adesso vediamo quanti capiscono che questa non è ostentazione vediamo se ci arrivate ok allora queste scarpe qui pa 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 1700 doll perfetto adesso voi dire ah sta ostentando questa roba qui ve la prendete quando è tutto a posto quando non ci avete debiti quando avete messo via il cuscinetto liquido quando avete i vostri salvadanai i vostri investimenti eccetera poi potete fare il pirla da Louis Vuitton una volta quando volete ok o anche tutti i giorni se ve lo potete permettere il problema è non fare questa pirlata qui che avete 10.000 euro in banca io conosco gente che fa questa roba qui che ha pochi soldi questo è un extra sfizio che è legittimo fare che è giusto anche tutti i giorni fare e io sono anche pro foto Instagram perché sono cazzi vostri ma quando è tutto a posto quando tutto il resto è stato messo in sicurezza ciao B non riesco più a parlare con il tuo consulente mi è sparito che faccio chiama l'800 303 666 e chiedi di essere riassegnato fai una lamentela immediata ma all'inizio tu non eri così dico opportunity seeker credo che tutti ci siamo passati prima o dopo poi si capisce le proprie spese Sofia allora all'inizio va benissimo certo ovviamente io all'inizio volevo fare soldi dicevo faccio X al mese non faccio X al mese con il mio metodo di guadagno ai tempi ho iniziato con i libretti prima ancora facevo il traduttore online va bene ma poi mi sono messo in realtà l'ho fatto in concomitanza perché subito ho capito che c'era qualcosa di più c'è chi questa fase qua non gli arriva mai dopo un po' muore cioè va bene all'inizio non sai però ti devi mettere poi subito a studiare mi domani tutti in like ma se Dan Kennedy ha portato a questo livello per andare oltre hai bisogno di un nuovo mentore studio da molte altre persone beh molte non è vero integro e sto studiando molte cose nuove in questo periodo no la stanza non è niente di che Mattia guarda e lascia perdere non è niente di interessante ho fatto una sponsorizzata e ho raccolto un bel po' di contatti come primo test per il lancio di un nuovo prodotto sto aspettando un lavoro per un primo prototipo ci vorrà un po' di tempo sono in un periodo in cui non devo fare niente sto cercando di rimanere focalizzato cosa consiglio di fare in questo periodo mi sembra di star perdendo tempo e focus ho fatto una sponsorizzata per il lancio di un nuovo prodotto aspettando il lavoro per il primo prototipo questa è la scalmana che ti viene respira e comincia a costruire quando esce questo prodotto dovrai fare delle cose dovrai avere un ecosistema comincia a tappare eventuali buchi metti su un customer service per dire e l'attesa ti uccide lo so noi adesso abbiamo dei progetti che verranno fuori tra due mesi tre mesi quattro mesi sfregoliamo però ti devi tenere anche questa è una sfida questa fa parte dell'essere imprenditore di fare progetti oggi mi ha scritto su linkedin e diceva seguimi e ti dimostro come puoi guadagnare così tanto e così facilmente gli ho scritto che sono anche tuo studente e non mi ho risposto a me hanno scritto recentemente volevo mettere lo screenshot a uno ho anche risposto perché l'ho visto io ho risposto io personalmente allora mi hanno proposto i segnali di forex in affiliazione ragazzi vi voglio bene assai no grazie non ci interessa e crescita profilo su instagram possiamo farti crescere il profilo gli ho detto grazie no non abbiamo risposto abbiamo di queste quello che fanno i lead con i loro soldi non ci imporna ho finito la scuola da un anno sto leggendo i libri per la crescita personale consiglio di partire come drop come mio business mio obiettivo è quello di arrivare a fare intermediare a Dubai più due o tre business online girolamo hai seguito quello che ho detto online no non ti consiglio allora tu puoi sì allora sì fallo perché ti valida l'idea che si può guadagnare online che è molto importante in realtà come prima cosa come cosa stabile ti consiglio di fare drop no non l'ho mai nascosto quindi non comincerò a nascondere l'ora due o tre business online facciamone uno seriamente poi vediamo di espanderci dopo riguarda questo live perché non è uno scherzo il business online però tu sei un business si fa fatica a più fare borderline che a vendere seriamente e Daniele io l'ho conosciuto di tutti i tipi se tu mi chiedi le persone online che guadagnavano di più che conoscevo erano parecchio borderline troppo borderline contento di fare quello che faccio io invece ma ripetersi che sei grato e felice dei soldi che stai facendo money formation non ti mette un po' in uno stato di autopilot è esattamente quello che cerchi quella frase lì ovviamente è una semplificazione del fatto che tu devi installare nella tua mente inconscia le abitudini insieme di abitudini si chiama paradigma delle persone che hanno il risultato che è per adesso un tuo obiettivo però va studiato come ragionamento proprio oggi ascoltavo una tua live dove dicevi che ti rendi conto che stai cambiando quando le persone accanto a te iniziano ad attaccarti a allontanarsi e sono felice di questo non l'ho preso info business per babuini comunque mi sono espresso male volevo dire che voglio costruire un business di relazioni vedere se c'è mercato per il servizio che ho attraverso i test da lì procedere a reinventarmi ok se si ha un e-commerce in Italia e si vuole iniziare a fare info business conviene andare a vivere a Dubai per pagare meno tasse almeno in quel business allora Dio mio se voi avete un business intangibile potete non essere in Italia la cosa aiuta perché ripito in Italia le tasse le dovete pagare e sono un freno perciò sì io vi consiglio di io consiglio il paradiso fiscale so che è un termine forte se potete se tu hai un e-commerce in Italia e si vuole se vai a Dubai anche l'e-commerce diventa gestito quantomeno da Dubai adesso non so dove tu abbia la merce di questo e-commerce però il non dove perché il problema è che si crea è un problema di focus cioè nei paesi delle tasse molti imprenditori ragionano in non pagare le tasse rispetto a fare profitto perché le tasse sono pagate sul profitto ed è un problema in termini di capitalizzazione aziendale e poi di ricchezza personale ciao Johnny Claudio ma guarda pensavo fosse meglio l'hotel bisognerebbe anche definire cosa si intende per ostentare la linea molto sottile poi c'è definire se stai vendendo corsi per attirare opportunity seeker fai leva su sta cosa che effettivamente non hai fatto tu ma lo stile di vita non è che io l'abbia nascosto sicuramente io ci ho giocato con lo stile di vita non è che siamo qua che facevi live dalla piscina però il problema vedi cioè io facevi live dalla piscina perché ero in piscina non andavo in piscina per fare live è una differenza sottile ma è esattamente così ti faccio un esempio eravamo a Miami donna che faceva network doveva chiudersi in un bunker per fare il video per il network io dicevo scusa patata ma no perché non vogliono che faccia vedere siamo in una camera cioè che cazzo non è che ci siamo venuti apposta per fare il video non so se è chiaro dipende tu puoi anche attirare l'attenzione cioè se io domani voglio dire vado su youtube li ho fatti agli ads della piscina il mio ad per babbuini è vuoi anche tu fare il bagno con la maglietta in piscina dopodiché se uno non capisce che è canzonatorio e se ero per attirare l'attenzione è un deficiente quindi dipende se poi io ti dico compra il sistema automatico e tra tre giorni farai guardate che li vendono queste cose qua le piattaforme come fai il 5% al giorno adesso robe pazzesche linkedin fuori da us oppure italia vale la pena yes troppo oggi vuoi iniziare e parte con poco capitale a parte studiare l'online marketing servizi informazioni sono quelli che richiedono meno soldi non per questo facili ta roba qua che poi vende le informazioni facile guarda io sarebbe una delle cose sarebbe bello fare non avessi amici colleghi e alcuni stronti che non si vogliono far vedere sarebbe fare una sorta di reportage documentario del dietro le quinte purtroppo molti non lo accettano tutti i vari lucri suburbani sì ma siamo sicuri che non ci fa la foto in sala sarebbe carino così diamo qualche informazione perché poi mi rendo anche conto faccio degli esempi ma non posso dire chi e come e vabbè alcuni vabbè per carità sono noti anche personaggi noti però c'è un po' molto di più sono scaffa ci metto cosa pesa questo video non li faresti mai ora sono scaffa non hai il controllo e allora Mattia tu puoi anche puoi anche farlo il un business dove tu non hai il controllo puoi cominciare facendo quello non starei lì cioè io allora per cominciare a fare soldi e fare i libretti è giustissimo consiglio o l'affiliate marketing o il dropshipping o quello che è e questo cosa fa in voi valida il fatto che sia possibile e neanche fare soldi online come è un po' che vi dico il tema non è neanche fare soldi online il tema è farli da casa è lì che vi scrivi quando uno capisce che sto esagerando per l'amore della discussione è effettivamente possibile stare a casa e fare soldi con laptop vi si ad alcuni non è per tutti a donne non piace andare in giro parlare fare cose vedere gente ma fa schifo urca aspetta un attimo a che avete messo il piedino dentro il mondo del business dei soldi delle cose però voi non prendete quel piedino e quei soldi cominciate a espandere aspetta ok ho avuto fortuna sto facendo questa piccola cosa che non capisco bene non per niente crea la sindrome dell'impostore perché c'è una parte di boh mi sta andando bene ma sembra che funzioni non state lì cominciate a studiare i soldi stiamo parlando di soldi come gestisco la liquidità c'è un mercato quale mercato quale controllo quali tu scuola delega e ti espande ciao big ciao borderline è ovviamente spesso più forte nel breve medio periodo questo se non vogliamo considerare aspetti etici illegali ma poi se vuoi costruire qualcosa di duratura e sano sei costretto a lavorare in altro modo il dramma è che se si nasce con il black difficilmente è capace di modificare il progetto no no germano è impossibile è impossibile io lo trovo praticamente impossibile potrei raccontare a qualcuna che il problema è anche non rendersi conto che quello che si fa è borderline o illegale ti posso assicurare con profonda certezza certa e matematica e scientifica al 100% oggi 6 luglio quello che è che ci sono persone che fanno black o truffe che non sanno che le stanno facendo cioè non truffe che non non sanno e non va bene e quando ti si crea è un po' come il mio io ho un amico che mi segue per la borsa e lui mi dice la cosa che la cosa peggiore che può succedere a uno che si mette lì a smanettare a fare trading o speculare che è è guadagnare basta ti parte il cervello una delle cose che dico sempre è non associate il business ai trucchetti alle così perché li ricercate tutta la vita perché se no non sapete c'è chi scippa le vecchiette è molto difficile poi accettare che deve andare a lavorare otto ore non ce la fa più a pensarlo continuerà a scippare le vecchiette se non ci sono più le vecchiette scipperà qualcun altro cosa ne pensi del trading online è difficile puoi farlo ma io non lo faccio dice sempre insegnato che bisogna abituarsi a fare le cose difficili bisogna puntare in alto il dropshipping come core business è un problema eh sì innanzitutto allora il dropshipping va bene per far avvicinare le persone al concetto che è possibile vendere roba online che ripeto non è da sottovalutare cioè quando tu vendi qualcosa online e vedi che entra la vendita succede un qualcosa a livello cerebrale questo me lo ricordo benissimo al primo libretto vendo 2,99 euro cioè scatta questo te lo possono dire tutti quelli che fanno delle robe online ti valida comincia a dire minchia funziona è importante perché prima di allora è teoria prima di allora basta roba online quando vedi quei 2 euro dici no aspetta potresti essere in perdita non te ne frega niente e da lì inizi però a studiare a fare a me il dropshipping non piace al modello di business lo dico da sempre perché non hai il controllo da nessuna delle parti non piace a facebook come modello dopodiché c'è gente che guadagna col dropshipping si può fare dropshipping sì certo a me non piace ma non ne ho mai fatto mistero società di consulenza e di servizi si può fare a società estera giusto cioè se non sia magazzino sì sì la puoi fare ma se sei in Italia paghi le tasse se invece tu fai consulenza e la eroghi da da dove la eroghi insomma hai iniziato tu a Dubai cosa per te normale ora in molti ti copiano da Dubai ma si vede che sono finte differenza tua e io ero già a Dubai per i cavoli i cavoli miei mi sono dato obiettivi per s'estate tra cui voglio fare ripetizione totale a giorno sono che settembre forse inizio di nuovo scuola starei troppo mai ambiente così testa riprogrammata ancora più già quest'anno non ti dico che mi consigli di diplomarti di andare fuori di casa te lo ci ha detto il big attirò la mia attenzione non dalla piscina ma dal mall mentre smadonnava contro gli pseudomarketers italiani Marco come va il business su LinkedIn vengo contattato da aziende per posizionarsi da programmatore ma appena dico che lavoro in partita IVA dal mio ufficio scappano parlando di sola assunzione non riesco a fare salto da dipendente libero professionista resti qualche dritta ma cacchio di solito si ha il problema contrario ci sono tantissime realtà noi per primi che collaboriamo con programmatori a partita IVA collaboratori esterni anzi ad oggi è tutto molto più mobile è tutto molto più plastico perché le esigenze cambiano molto rapidamente quindi ciao big non credo che tutti possano avere successo vendendo informazioni anche perché ci vuole un bel po' di tempo per diventare bravi e farlo di conseguenza fare solo confermo non pensi che si possa fare ovviamente se fatto bene possa dare delle belle soddisfazioni fermarsi lì grazie per la risposta assolutamente Gabriele certo che lo puoi fare lo puoi fare tranquillamente dipende che obiettivi hai cioè se tu mi dici perché vedete la differenza io voglio fare voglio avere un introito lavorando io lavoro 8 ore torno a casa posso lavorare nel 3 8 a un'affiliazione a un'amazon a piedi io ti dico io cioè queste persone qua le veicolo presso gli altri informatori ma non perché sono stupidi perché sono un altro target gli dico ma certo è inutile che cazzo guardi i miei video che del mindset il paradigma il Kennedy la manipolazione dello cioè è completamente inutile no? la piattaforma proprietaria il customer service 24 ore su 24 il mercato il price point lo sweet spot il testing a varie fasce di prezzo ti fai i libretti ti fai l'affiliate marketing ti fai il drop shipping ti fai il diverso ma capisci che è uno stipendio aggiuntivo il momento in cui tu devi fare un'azienda delle procedure interne eccetera vuoi basare questa cosa magari su altri presupposti ma affiliate marketing non vuol dire niente come drop shipping bisogna vedere cosa c'è anche il drop shipping servizi ho sentito sgargiare un meeting di tutti nel senso che non devi essere tu un altro famoso a chiamare gli altri mi dici bigvary che non nomino ho i finiti ma dici bigvary che non ho no per quella cosa che ho detto no parlo di miei studenti e colleghi è una sfida avevo l'idea di appoggiare una ricetta di crowdfunding per la prima parte del business anche se mi preleveranno il 24% il finanziamento raggiunto cosa ne pensi dopo non saprei come riuscivo a trovare un team affidabile e competente no 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 niente crowdfunding niente crowdfunding niente crowdfunding niente crowdfunding crowdfunding vuol dire che diventano diventano soci eh molte volte adesso non so che crowdfunding sia no autofinanziati e all'inizio vi consiglio non fate le robe con i soci voi da soli ascoltatevi me ascoltate un cretino lo so ai studenti che guadagnano più di te yes ho un piccolo business online anche se momentaneamente fero vorrei creare un videocorso da vendere online più consulenza cosa consiglio di iniziare lms learn dash per wordpress o ingaggiarmi a una piattaforma esterna ah no tecnicamente che piattaforma usare per i corsi ti posso dire di usare kajabi anche se non ho nessuna simpatia per loro per altri motivi non 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 le so le robe tecniche negozio fisico in franchising andando in controtendenza come lo vedi negozio fisico in franchising andando in controtendenza cosa intende ragazzi io sono un po' stanco devo andare è stato bello breve ma intenso niente allora scorso tutte le domande fino alla fine vabbè diciamo che il live è stato più completo e con più domande del previsto ci tenevo a dirvi queste cose qua fate quello che volete io sono stanco riguardatevelo fate share arrivederci grazie a tutti